Tre coltellate. A negare all'ennesima donna il desiderio di ricostruirsi una vita. Un altro crudele caso di femminicidio che non lascia scampo ad Anastasia Lascheri, 23 anni ucraina, residente a Fano e madre di un bambino di due anni. Il corpo della giovane è stato ritrovato senza vita questa mattina a lungo il torrente Arzilla nelle campagne di Villa Giulia, tra Pesaro e Fano, dopo ore di ricerche da parte degli inquirenti a seguito della denuncia di scomparsa presentata domenica mattina. Del corpo della donna si erano perse le tracce quando, dopo essersene andata via di casa giorni prima, a seguito di reiterate aggressioni del marito nei suoi confronti, sarebbe tornata per recuperare gli effetti personali. Ed è proprio l'ex marito ad essere finito in manette. L'uomo, un pasticciere di 42 anni di nazionalità egiziana e ucraina, è stato fermato nella stazione ferroviaria di Bologna mentre cercava di allontanarsi dal paese e, confermandosi colpevole, ha rivelato ai carabinieri le coordinate per ritrovare il corpo. Lo stesso marito con il quale Anastasia Marzo, insieme al loro figlio, era arrivata a Fano per fuggire dalla guerra che stava colpendo l'Ucraina, ma la conflittualità del rapporto l'aveva portata a volere la separazione. In pochi mesi, dalla fuga in Italia, la ragazza era riuscita ad ottenere lavoro in uno dei ristoranti fanesi più conosciuti, Osteria dalla Peppa, gestito da Martina Carloni, sorella del deputato Mirko. Una notizia che ci ha sconvolto, la ragazza era molto brava e dimostrava grande dedizione per il suo lavoro. Queste le parole di Cordoglio postate sulla pagina Facebook del ristorante dove Anastasia lavorava da maggio. Ed è stato proprio un suo collega che, ospitando la ragazza in quei giorni in cui era fuggita dal marito, ha denunciato la scomparsa. Da lì le indagini fino al ritrovamento senza vita del corpo tra il verde delle campagne di Fano, poco distante dal coltello che l'ha ferita mortalmente, e dal trolley, quello che la ragazza voleva portare via con sé per iniziare una nuova vita.